Musicale, perché parliamo d'amore ma si era detto anche di musica, ecco la cosa che mi ha sempre colpito era la personalità che questa coppia esprimeva artisticamente parlando che non aveva nulla a che fare con le caratteristiche di lui e di lei quando erano solisti, cioè era nata un qualche cosa di nuovo, di diverso, che emozionava Infatti quando ci siamo messi insieme a cantare bisognava per forza rinunciare a una piccola parte di sé per partecipare alla coppia e chi ha rinunciato secondo te? E' tu! E' Cappa! Perché lui cantava in città!